Questa mattina dalle 8.15 visite mediche in un posto top secret, non nei classici posti dove ordinariamente si svolgono le visite mediche, nel pomeriggio probabilmente in serata rientrerà a Napoli perché domani riprenderà gli allenamenti con la squadra di Sarri, lo ricordiamo. Per lui, contratto biennale, il Milan aveva già avvisato qualche giorno fa il Napoli di voler contattare il portiere spagnolo che, lo ricordiamo, a fine anno sarà libero e quindi il Milan lo porterà in rosso-nero a parametro zero. Ora Peppe, io non è che voglio andare troppo oltre, però a naso cosa viene a fare Reina a Milanello? Il secondo di qualcuno molto giovane o il primo? Così capiamo anche altri movimenti. Guarda, ad oggi se le cose dovessero rimanere così, io gioco sulle immagini e vedo un Gigio Donnarumma estremamente coinvolto nel progetto Milan, più di quanto non lo fosse o lo fosse qualche mese fa. Questo cosa vuol dire? Che restano Antonio Donnarumma, Gigio Donnarumma e Peppe Reina? Probabilmente no, probabilmente sì, perché io credo che Reina potrebbe anche fare, visto comunque, se non mi sbaglio, un classe 82, potrebbe anche decidere di venire a fare il secondo al Milan di Gigio Donnarumma. Attenzione a quello che potrà succedere ovviamente in cave mercato, perché io sono convinto che qualche club importante arriverà alla porta del Milan, il Milan non voleva farsi trovare impreparato, sappiamo sempre dei rapporti che sono stati, sono e probabilmente saranno estremamente freddi, con Mino Raiola e se Mino Raiola dovesse portare un'offerta di 40-50 milioni di euro, ecco, non ti trovi o non ti troveresti impreparato come probabilmente poteva succedere la scorsa estate quando tu non avevi l'alternativa, ti ricordi quelle ore convulse quando tu cercavi Perin, cercavi Reina, cercavi... Adesso un portiere sai di averlo e qualora tu dovessi decidere di cedere Donnarumma, qualora dovesse arrivare un'offerta estremamente importante per Donnarumma, il Milan a quel punto avrebbe un po' più di serenità.